Un eccezionale evento meteorologico nella mattina di martedì 27 luglio 2021 ha rovesciato sui monti lariani una quantità straordinaria di pioggia. In pochi minuti l'acqua giovana si è convogliata nelle ripite valli, ingrossando i correnti. A loro volta, usciti dal loro alveo, i fossi d'acqua hanno strappato alberi e creato cani, portando a valle connellate i detriti e travolgendo i ponti al loro passaggio. A Laglio, in Val Carabello, tra la provinciale 71 e la statale 370 Regina, una valanga di acqua, fango e detriti ha sommerso le case, costruendo porte e finestre fino a oltre il primo piano. A quattro giorni dall'accaduto, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, sopraggiunti in forze e con l'attrezzatura da varie parti della regione, sono tuttora all'opera per rimuovere i detriti e ripristinare l'erogazione di acqua, gas ed elettricità. Grazie a tutti.